Ottava edizione della Mescita della Ricotta a Maniace, 27-28-30 aprile 1 maggio 2019. Quattro giorni di assaggi con diversi momenti dedicati alla Mescita della Ricotta, stand con prodotti tipici locali e spettacoli di folklore ed artisti di strada. La sagra è organizzata dal comune di Maniace con la preziosa collaborazione degli allevatori, dell'associazione Ghiran, dell'Avraloco di Maniace, dell'istituto Giovanni Falcone di Giarre, sede di Maniace con il patrocinio della Regione Siciliana ed il Parco dei Nebrodi. Per maggiori informazioni contattatelo 095 690139 oppure visitate il sito internet del comune. Cosa aspettate? Venite a Maniace per quattro giorni di assoluto divertimento! Grazie a tutti!